La procedura è stata completata e ci sono volute delle integrazioni effettuate in corso d'opera e il Dipartimento regionale a cui rifiuti ha comunque autorizzato la modifica dell'AIA per l'impianto di Eco Region che tratterà gli oli esausti di cottura. Saranno rigenerati e utilizzati come ruco per alimentare il processo dei biocarburanti della Green Refinery di Contrada Piana del Signore. Nell'aprile dello scorso anno erano partiti i primi lavori per l'impianto nell'area individuata all'interno dello stabilimento di Eni. Si pose però l'esigenza di ulteriori verifiche, visto che una parte delle aree risultava ancora sottoposta a procedure di analisi di rischio dei terreni, i funzionali regionali a seguito di richieste di documentazione e conferenze di servizi hanno acquisito i dati necessari anche rispetto alla variazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Venne attivato l'iter per la valutazione di impatto ambientale secondo la normativa che regola la materia. Nelle settembre dello scorso anno sempre il Dipartimento regionale a cui rifiuti si era espresso favorevolmente sulla compatibilità ambientale con il rilascio del nulla osta. Anche la Commissione Tecnica Specialistica e gli altri enti preposti avevano concluse in questo senso. La trasformazione degli UCO in RUCO nel processo di rigenerazione assicurerà l'alimentazione di un impianto centrale nel ciclo green di raffineria, il POT BTU. Le attività predisposte nel progetto si svilupperanno in aree interne al sito di raffineria, l'isola 13 e l'isola 9, dove si prevede un punto per l'arrivo di UCO via terra. L'olio esausto di cottura aggiungerà non solo via terra ma anche tramite nave. Il sistema è destinato alla lavorazione di non meno di 400.000 tonnellate all'anno di used cooking oil. L'azienda Eco Region d'anni opera nel sito Eni, inizialmente con attività di rigenerazione dei catalizzatori esausti. La produzione giornaliera con il nuovo impianto invece non supererà la soglia delle 75 tonnellate. Gli oli di cottura esausti rigenerati verranno poi ceduti per alimentare la produzione di biocarburanti, di energia elettrica in cogenerazione e oliochimica. Nelle 15 pagine del decreto rilasciato al Dipartimento regionale sono riportate inoltre le prescrizioni che dovranno essere osservate. Una precedente autorizzazione integrata ambientale era stata rilasciata da Eco Region nel 2016.